Una stiratina, uno spuntino e... si comincia! Sonic, è bello che tu voglia salvare il mondo. Ti spiace seguido? Ma sei troppo spericolato. Tranquilli, nessuno si farà male! Pensi di essere Batman? Blue Justice, marchio quasi registrato. Ma sei ancora un ragazzino. Credimi, arriverà il momento in cui serviranno i tuoi poteri. Ma non scegli tu il momento. Il momento sceglie te. Guarda, ho i brividi. Un secondo, questa l'hai rubata a opera? È tornato! Papino ha dei baffi tutti nuovi. Dopo che sono scomparso, ho scoperto la fonte dell'energia definitiva. Roba grossa? Erano anni che lo sognavo. Spero non sia troppo tardi. Scusa tanto, chi sei? Mi chiamo Taze. Ok. Senti, cosa facciamo? Primo passo, vaga presa in giro. Secondo passo, non ne ho idea. Non è stato male. Per oggi è previsto il cento per cento di avventura. Sonic! Rispedire al mittente. Arrenditi. Non avrai mai il mio potere. Ti sembro uno che ha bisogno del tuo potere? Dove sono le buone maniere? Sonic, ti presento... Knuckles. Non avrai mai il mio potere. 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 Grazie.